La Juventus dice no, sarà addio con uno dei protagonisti degli ultimi anni? La sua partenza è ormai quasi certa, avete visto? È tempo di riflessioni profonde in casa Juventus, dopo due stagioni senza alcun trofeo i bianconeri dovranno necessariamente invertire il trend. Massimiliano Allegri è stato confermato di recente dal board dirigenziale, sarà ancora lui a capo della squadra. Ottava stagione complessiva per il tecnico livornese alla Juventus. Allegri durante questa sessione estiva di calciomercato però dovrà fare i conti con diverse partenze. Il primo a salutare i bianconeri potrebbe essere proprio Juan Quadrado. Il suo contratto in scadenza il 30 giugno non sarà rinnovato. Per la fascia destra la Juventus, complice anche il lungo infortunio di De Sciglio, dovrà necessariamente trovare delle alternative. Cambiaso tornerà dal prestito. Gli obiettivi principali per la fascia destra sono Lucas Vázquez del Real Madrid ed Emil Holm dello Spezia. Chi dovrebbe acquistare secondo voi la Juventus in quel reparto?